bella raga fermi fermi sto video inizia così non perdete questi 10 secondi perché informazione importante oggi venerdì 15 e verdi prossimo 22 non ci sarà lo stream lo so lo so sono d'accordo potete pensare mi spiace ma proprio non posso ci ho fatto di tutto ma oggi non riesco proprio impossibile tranquilli non salterò più niente settimana perché non esiste proprio e venerdì prossimo invece il 22 è il mio compleanno quindi si lo spam di auguri nei commenti lo immaginerò ringrazio in anticipo grazie gentilissimi e finito questo fatto pubblicità eccomi qua ragazzi nel mio mondo voglio non è vero sono credo a ragazzi cose particolari da notare prima di tutto per qualcuno che un po conosce minecraft le mode la in game info noterà che c'è un difettino in alto a sinistra con l'ex non ho citato è successo in live cosa simpaticissima e sono livello 111 e non posso guadagnare livelli l'unico modo per sbloccare la situazione è morire e io non c'ho intenzione di morire per adesso per adesso lasciamolo buggato perché non l'avevo mai visto mi è capitata una cosa simpatico ragazzi che muovi racconto però prima di tutto volevo cominciare questo video dato che oggi non farò live penso che farò un video un po più lunghetto del solito video un po più lunghetto può darsi può darsi raga qualcosa che appena schiantato contro la finestra della mia stanza tipo un insetto grosso come un cane ha fatto tipo boh non so se sentito in live dove risentire la registrazione raga ho riguardato la registrazione si sente un tac forte tipo un tipo batto sulla tastiera ma che cazzo vi giuro cioè ha fatto tipo un esempio tlac schiantato contro il vetro che cosa allucinante ho visto arrivare che è una cosa assurda vi giuro fatto prendere colpo si sente pure nella registrazione vabbè comunque cose solo nei video cioè mentre registro c'è cose assurde ma io penso solo a me penso comunque tornando a noi in questo video devo fare i magma crucible e lato craft perché ragazzi sono un sacco di live che devo farli mi sono proprio rotto il cazzo che ogni volta sono sempre lì a craftare a craftare a craftare ok ha messo in craft tutto il necessario per creare questi magma crucible l'unico problema che si è andato a creare è che beh sì in effetti avrei dovuto il magma crucible non è semplice da farlo sapete dovrei farne tipo vi faccio vedere vi faccio vedere sicuramente devo fare i fluid transposer se no fluid sì certo transposer altrimenti non posso riempire gli oggetti ecco alla manca roba ai secchi non capisco perché mancano una crafta di millemila ok ragazzi mi sto dimenticando un piccolo dettaglio che non sto facendo copper si copper gear mille eh sì ragazzi ormai non so se siete presenti nel live ve lo sapete ormai ragazzi crafto tutto mille per ci manca però mille manca quello mille infatti uguale per i secchi adesso che me l'avete ricordato non ho craftati solo 381 non esiste cioè non esiste proprio craft mille 1024 per l'esattezza perfetto ho craftato anche mille secchi ok ci siamo io credo che 33 bassino perché serve uno per l'enderium uno per la glowstone e uno per il crioteum per fai tubi tiè proprio esagerando e adesso io penso che farò lo stesso sistema e faccio vedere vado nella zona fabbrica infinita perché non mi metterò a craftare i tubi all'infinito però metterò in modo che ogni volta che craft un tubo va lì e si riempie vi faccio vedere vi faccio vedere ad esempio mi serve serve cavolo regà ottimo ho finito spazio nella fabbrica finita c'è più spazio come faccio questo spazio questo spazio è un po' breve ma questa fabbrica si diventa sempre più grossa fra un po' esploderà tutto il mondo io già lo so ma sti cosi lavorano almeno oh cavolo l'ho lasciato a lavorare al quarzo quanti processori ho fatto sì i famosissimi v processor eh no ancora 19k di quarzo e 39k di logic vabbè vabbè ci sta ragazzi come i processori che sto a fa faccio un po' di rischi a 64k tanto per riuscirò a farne un k oggi ma no non me ne avanzerà ancora 64 no un k non credo e ma guarda solo perché mi manca il quarzo eh regà vabbè la resta non la faccio il quarzo quanti 66.000 quarzo che e te lo prendo 66.000 quarzo e lo faccio lo dubbligo c'è un valore msi valore msi valore ev esatto qui le mod sceme le mod sceme non fanno per noi regà niente mod sceme e come faccio però a mettere in ordine ah è qua non trovo in ordine di quantità allora notare ho 2,6 milioni di oro e credo proprio che il nostro oro fa proprio al caso nostro 2,6 milioni di notari materiale ormai ragazzi vado a 2,2 milioni e 8,2 milioni e 6 tutto quello che sta sotto al milione è perché ce n'ho poco aumenterò la produzione tranquilli ma aumenta ma bomba 2 milioni 10 milioni 100 milioni faccio tranquilli faccio tutto allora appena di sotto allora la resta non già la faccio qui quindi io gli butto un po' di oro e fa da solo perfetto e il quarzo io andiamo subito ad aggiungere ci sta no mi sembra abbastanza onesto e il quarzo lo devo filtrare qui ci devo mettere la pesa eh no 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 io ho dato un valore no non può essere c'aveva un valore regà ah solo il certo squartz crystal poca troia e non ce l'ho e lo faccio prendo una roccia la spacco con spacca roccia vai golem spacca roccia e c'è il quarzo ah no è chargent barca ma lol ma no ah però c'è il certo squartz block buono shh 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 ce l'ho 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 ah io ho impostato il mio impianto in modo che dove l'avevo buttato tutto non è vero ma dai regà ma dai serio ma che cazzo 315.000 cioè che cioè tu mi stai dicendo che ho oltre un milione e duecentomila quarzo ah 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 serio ecco stai dicendo che mi sono già stata una simpatia no? c'è gente che mi dice che quando faccio così lo faccio apposta cioè che sono un po' esagerato regà io ho un milione e duecentomila quarze e non lo sapevo esagerato de che? ma sei serio? aspetta aspetta devo aspetta madonna regà sto pixel è troppo distruttivo però non può essere ho appena toccato un pezzo si porta via mezzo mondo ma quello che stavo facendo i canali mi bastano? i canali mi bastano quello che stavo... oddio senza cambiare la configurazione perché so pigro regà riesco a spostare l'import e l'export piuttosto che cambiare la configurazione del macchinario mamma mia che pigrizia oggi ragazzi una cosa inaudita e gli faccio subito esportare il quartz block eh si raga io... oh ma la smetto di premo W raga oggi ho le dita un po' ah ok ho le dita ma madonna tu un milione e duecentomila quarzo ma quando? ma poi devo polverizzarlo e duplicarlo quindi è come se ne avessi due milioni numeri a caso che non stanno né in cielo né in terra però non l'avevo proprio visti guarda li stanno pure qui bando alle cazzate le dicevo devo scomporle quindi sicuramente mi serve una schematic perché devo insegnarle alle saip e devo accendere... eh si ragazzi questo sì click era necessario deve esportare quartz block a go go proprio devo fare le saip perché un quartz block mi dà un certo squarzo voilà il gioco è fatto e adesso deve importare alla stessa velocità accelere super velocissimo questo lo scollego 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 e ci siamo ok no l'import è abbastanza veloce sinceramente preferisco la logistic sì la logistic sicuramente sarebbe più veloce però ormai ho fatto l'app quindi c'è poi se me va a cambiare la logistic no va bene così dai raga dai è abbastanza veloce ah ecco ecco ha preso il via forse perché stava ancora caricando l'app e te lo fa spesso guarda guarda adesso come va ok adesso ci siamo così così ci siamo ragazzi ok sto trasformando tutti i miei blocchi in quartz devi trasformare circa 300.000 blocchi quindi potrebbe volerci qualche giorno ok e non è detto che smonti i blocchi abbastanza veloce di quanti ne produco perché per averne 300.000 quanti cazzo ne produco cioè ho giocato sì e no 10 ore da quando ho messo vabbè lasciamo fare c'è stato il quarzo infinito quindi perfetto c'è il quarzo infinito ok adesso posso ripassare ai miei fluid trasposer e magma crucible grazie senza che mi esce qualche mod incredibile all'improvviso ma se collego il flux tutto nel piano di sopra devo farlo per forza lo sapete mi serve un pezzo un pezzo di ca... eh cioè vuol dire perché sto flux tutto passa qui ma qui non c'è ah perché ho già previsto che un giorno avrei collegato ovviamente ragazzi sto cercando di fare la cosa più decorativa possibile perché deve venire bella da vedere e efficiente soprattutto allora magma crucible io sinceramente utilizzerei anche questa volta solamente l'app vedete tanto oh cazzo ah no è vero no qui non abbiamo problemi di canale 2,4,6,8 no giusto basta che metto un dance cable e il problema è risolto lo posso mettere un dance? non lo so mica eh non lo so mica perché siamo un po' strettini allora qui ne occupiamo ben 21 e qui secondo noi abbiamo ben 8 quindi ragazzi un totale di 29 canali 29 canali ce ne mancano solo 3 e con 3 canali non ci facciamo una sega e merita di niente a meno che non faccio l'entrata con l'app e dell'uscita con la logistic tanto un tubo della logistic passa qui potrei in effetti potrei farlo ci penso non è possibile che io dell'induction smelter del cavolo occupa tutti i canali dell'app dai non è possibile ma guardate che roba di dove forse sarà la fabbrica infinita una roba allucinata una cosa carina ragazzi che posso riconoscere la nuova thermal e non capisco perché non l'hanno fatto anche a quella vecchia perché boh i creatori della thermal sono dei dementi è poter fare l'input e l'output dalla stessa faccia del macchinario è una cosa molto simpatica mi avrebbe aiutato in questo caso a stringere ancora di più l'impianto non capisco perché qua non c'è la nuova versione si che cazzo è cambiata da sta thermal a quella o sanno solo loro rega lo giuro non c'ho proprio idea allora sicuramente qui l'input sarà rosso sicuramente qua l'input sarà blu ok ah no però aspetta questo è l'output ah ok quindi blu non mi cambia niente non c'è un blu ah beh si di sicuro effettivamente i liquidi non potrebbero entrare in altro modo no vabbè ci sta anche si perché no ok quindi andiamo a mettere tutti i nostri bei cavetti dell'app dell'app ancora non l'ho collegata e ho già occupato 9 canali senza fare una sega di niente questa cosa non mi piace che tu ti attacchi qui eh perché questi non dovrebbero essere mettiamo delle ancore delle ancore si metterò un altro quantum link ragazzi non è perché occupa tutti i canali utilizzerò il quantum link che ho lasciato in sospeso a casa vecchia che non sto utilizzando non so se l'avete più vista a casa vecchia perché lo sto utilizzando cioè se cose le sto facendo praticamente sempre live ma io ve le faccio vedere eccola qui ragazzi questa è casa vecchia quel che ne è rimasto è rimasto solo questo impianto di tesseract che molto probabilmente sposterò voglio farlo più carino guarda lì tesseract porca di quella e devo spostare questo bidone volante che non vola perché è appoggiato al terreno però mi piace dire bidone volante mi ricorda Lilias e i grifoni andiamo subito nella fabbrica infinita a portare il nostro quantum link al piano di sopra lo attacchiamo dove cazzo minchia bubola ci pare tipo anche qui non ragazzi doppio quantum link attaccato cioè io non vorrei dire niente va bene lo spam va bene esagerare ma sto veramente facendo sto dando tutto me stesso in questa serie ve lo dico cioè non l'avevo mai spammato ma avete mai visto spammare così beh sì qualche volta sì ma veramente stavolta sto esagerando stavolta veramente veramente tanto non pensavo sono stupito stupisciuto da me stesso tutto questo oro non so perché ce l'ho ancora nell'inventario che ho 8 milioni e mezzo di quarzo sì perché l'obiettivo era pubblicare il quarzo ma in realtà ce n'ho troppo me ne servono degli import e degli export allora volevo automatizzare e cioè scusate volevo usare l'autocraft ci ho pensato un attimo ho detto e se uso l'autocraft per fare i miei e dove cazzo sono nato per fare questo coso il problema dell'autocraft ragazzi è che funziona solo quando glielo dico io e invece no questo deve funzionare sempre deve essere schiavizzato costantemente deve lavorare 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 stare zitto e lavorare quindi sì l'ho messo senza autocraft adesso ci metterò tutto l'autocraft tutti i macchinari in craft come si arriva serio l'unico difetto è che devo mettere tutti questi acceleration 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 dopo un po' diventi scemo dopo un po' diventi scemo sì non si scappa raga dopo minecraft c'è la demenza senile allora questo bellissimo cavetto io lo tiro così giusto per darmi un'idea dello spazio che posso occupare perché qui fra un po' verranno macchinari ok quindi l'ho solo tirato tanto per è bruttissimo di avere sono d'accordo lo sistemerò allora qui come vi ho detto potevo fare un discorso di trasporto infinito ma neanche bastano i canali pensa come sto ragionando perché qua già sono nove devo mettere subito un dance proprio roba a caso comunque devo ragionare su cosa devo produrre e non produrre allora io volevo fare ad esempio se io voglio craftare i redstone cazzi in mazzo questi redstone no i flux duct scusate i flux duct ok io principalmente uso questi piccolini per fare trasporto di energia normale questi grossi quando serve roba seria quindi sicuramente metteremo un export costante enderper di cryoteum e di redstone quindi ognuno di questi tre macchinari sarà dedicato a uno dei tre una delle tre fusioni quindi qui ci sarà sempre enderper liquida qui ci sarà sempre cryoteum liquida e qui ci sarà sempre redstone liquida poi faremo pure quello della glowstone se necessario adesso qui dovrebbe riempirsi vedete di redstone di cryoteum e di enderper cioè di di resonant ender scusate rispettivamente essendo i macchinari resonant tengono fino a 80.000 millibugget che sarebbero 80 secchi ok se avete notato il macchinario normale ne tiene tipo 8 no 40 16 ne tiene poco comunque questo tiene 80 secchi ed è tanto infatti se notate prima che si riempie ci vuole un sacco di tempo e in effetti ce ne vuole tanto dicevo dovrei impostare che questo coso butta fuori in automatico nel senso che vi faccio vedere ad esempio se io voglio craftare dei tesseract no? modalità craft non ho l'autocraft se io facessi un autocraft di tesseract dovrei di craftare il tesseract finale non è propriamente necessario perché io posso fare un autocraft di tesseract frame e mettere il tesseract frame che esce in automatico e poi direte ma è una merda potrebbe esserlo il discorso è che fare un autocraft potrebbe richiedere più tempo quindi a sto punto voi di tesseract frame io adesso vado a casa aspetta qui vabbè io ho detto di esportare di tesseract frame mi serve un card mi serve quella della capacity ok ce n'ho solo una direi che non ci siamo mi servono molti di più capacity card eccola qui andiamo a craftare le nostre capacity oggi ragazzi video speciale causa mancanza live causa mancanza tempo durerà un po' di più quindi rimanete attaccati che faccio tante cose oggi in video non sparite oddio non lo so quanto durerà vi giro finchè non finisco questa cosa non finisce il video può durare 10 minuti come mezz'ora non lo so vedremo fra poco non lo sto registrando a meno penso che se non lo sto registrando mamma mia c'è un pacco tutto poi vado a stirare la lancio dalla finestra adesso non registro più da domani e poi il nostro bellissimo import ragazzi dovrebbe importare il prodotto finito ma non lo sta importando perché è un macchinero ah no perché non c'è sui canali giusto anche tu c'è ragione comunque il nostro tessera frame full poi lo useremo per craftare i tessera blablabla non ci frega niente altre cose che devo craftare ad esempio sono i redstone come cacchio si chiamano cazzo buboli qua io mi pare che ce l'ho anche in craft vedete ad esempio l'energia sono l'energia flux dove li posso craftare quindi adesso vi faccio così ne voglio craftare 5.000 5.120 faccio start ok e arrivato su flux tut modalità craft oggetti oh i flux tut vuoti eccoli qua che li sta craftando a velocità disumana e gli dico di esportarli così oh dio ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato il redstone flux tut col crioteum non se sono mai visti ecco fatto adesso ragazzi sto bidone di macchinario mi crafterà all'infinito questi redstone flux tut all'infinito tutti e 5.000 quelli che gli ho chiesto quindi io sempre avrò pronti 5.000 di quelli voglio altri ad esempio voglio questi questi crioteum allo stesso modo io ne richiedo altri 5.000 ma sei un pazzo criminale sei un pazzo perché effettivamente non basta l'ossidiana che manca l'ossidiana eh vabbè questi si fanno non è ah richiede quelli ripieni ok aspettiamo che riempi non ho ossidiana non ho ossidiana ma che che serio ah ah è vero perché se ero per craftare gli ardened glass ci ho craftato 5.000 tubi ovvio che finisco l'ossidiana porca di quella paletta eh ok vabbè ma grittoria non ce ne so guarda la soluzione la vedere ecco la soluzione tiè beccate queste bapapapapapapapapapapapapam ok che ti mancava scusa ah non ti manca più niente adesso eh bastardo far figo ok ho messo il cavo da 64 dovrebbe bastare per il mio obiettivo si ragazzi è vero avrei potuto fare autocraft il problema è che non mi piace la soluzione autocraft è lenta cioè io devo aspettare che mi craft i materiali io li voglio sempre disponibili voi direte ma mettili con level emitter ma non è semplice perché devo avere comunque il tubo vuoto cioè io devo fare prima craftare il tubo vuoto e poi con level emitter farlo riempire quindi io preferisco craftarne 5.000, 10.000 10.000 cavi raga ma come li uso 10.000 cavi uno ne crafto 10.000 di tutto e il problema è risolto e questi girano nel frattempo io credo sia la soluzione migliore dai cioè 10.000 questi 10.000 di crioteum mille tessera quando vi passo mille tessera che esplode il mondo l'unica cosa che devo mettere sono gli augment ma adesso ce li metto devo ammettere che non è stato difficile craftare questi augment cioè ho tipo i materiali infiniti però ho dettagli e sei di questi ok 1,2,3 devo configurare che è palle sta cosa raga sta cosa degli upgrade non capisco perché non l'hanno migliorata cioè che ci vuole a fare tasto destro l'upgrade entra all'interno no devo metterli uno per uno faccio così e lei si dovrebbe upgradeare invece no devo aprire e mettere che è palle giuro un'agonia comunque notare la velocità che è aumentata decisamente stavo pensando invece di esportare la redstone i blocchi di redstone ma sinceramente chi se ne frega ok mi sta riempiendo cavi non richiesti 5.000 ne arriveranno 5.000 una volta che c'erano 5.000 crafterò un altro paio di migliaio di altri 5.000 e in più crafterò 5.000 creoteum dovrebbe aver risolto vediamo un po' quanto obsidiano 13.000 basta secondo me no secondo me ci butto un altro po' di stack di oro ce li butto da diretta a me da diretta a me perfetto regà il lavoro è completo mi sembra tutto funzionante non posso lamentarmi di nulla l'unica cosa che manca è fare un autocraft di questa roba allora il tesseract frame il tesseract completo se me lo crafto da solo non mi sento male anche se avere tutto automatico sarebbe meglio in effetti ci sto pensando ragazzi perché questi ho tesseract frame full e questi ho tesseract craftati perché dopo che hai riempito il tesseract richiede anche un craft quindi ci penso potrei migliorare il discorso tesseract però il problema è che è sempre lento è quello che mi dava a meno di affassire la lentezza cioè devo stare lì e aspettare che mi crafta l'oggetto non esiste capito io adesso riempio un casino di tesseract frame e poi e poi faccio l'autocraft del tesseract a parte mettiamola così allora devo incodarlo ok incodato perfetto lo aggiungiamo subito al nostro autocraft ne vado a craftare un migliaio quanti riesco vediamo quanti riesco a craftare riesco a craftarne mille non mi crafto mille crafto mille tesseract frame e poi aggiungo il craft del tesseract i tesseract frame andando raga crafterò mille tesseract voi siete sicuri che io crafterò mille tesseract cioè notare che io qualunque cosa ho bisogno crafto a mille per cioè qualcuno l'ha notata da questa cosa sono io l'unico scemo che sta notando che cazzo sta facendo questo cioè chi è che crafta mille per dentro l'app costantemente cioè buoni tutti però vabbè io continuo a ripetare questa cosa ma nessuno me caga cioè fanno mille per sono buoni tutti sono buoni tutti che vedevo di e flux poi dipende alcune cose le crafto pure a 5.000 per i creo stabilati non so se già posso farne mille mancano ancora 15 vabbè mille flux tutti non mi dispiacciono vabbè raga io credo che questo video sto aggiungendo verso il tempo termine ho fatto quello che devo fare l'autocraft funziona sto contento purtroppo ragazzi oggi non ci sarà live mi scuso tanto scusando non posso farci nulla spero la serie vi stia piacendo sto facendo di tutto per renderla figa figa mi ci sto impegnando veramente tanto guardate i canali dell'app spam dei canali effettivamente potrei fare un po' di dischi e riempire un po' di 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 cose a buffo tanto tanto per farlo non c'è un motivo particolare solo perché me va comunque dicevo guardiamo questi mille flux tutti che sicuramente questi 30 secondi è arrivato mille start perfetto vedete ragazzi sto solo a mille mille flux ho fatto 5000 5000 rest on flux 5000 creostabilized 1000 creostabilized quindi ci sta nel frattempo questo vomita roba che mi sa che sono i chunk ore che non sta cuocendo devo anche fare un piccolo upgrade di chunk ore perché faccio vedere guardate dove sta piccolo upgrade ore chunk produzione no ore chunk cottura ma l'ho messo in ordine di nome infatti mi sembrava strano ore chunk cottura notare qui vedete qui è dove cuocio gli ore chunk gli fps droppano pesantemente perché è un bel postaccio eh guardate che roba e praticamente credo che il rame sia oltre il limite che possono sopportare le fornaci giusto si il rame sta strabordando ragazzi quindi vi saluto qui mentre ok voi vi andate a rivedere i video vecchi vi andate a cercare da un lotto del pack perché c'è io aggiungo il copper nella zona sopra eh si ragazzi perché sto smaciullando un sacco di copper e la cottura che ho attualmente non regge la mia produzione quindi devo aumentare le fornaci ragazzi le ho messe apposta pre-produzione che sono belle tutte pronte piazzate per accettare altri minerali e io ci aggiungo altro copper perché veramente ce l'ho troppo sta esplodendo tutto già l'ho fatto con l'oro lo sapete già ho due file di fornaci che lavorano l'oro adesso ho due file di fornaci che lavorano in rame cioè veramente guardate la stack poi poi arriva cioè si è già riempito c'è questi stack di rame che girano ragazzi io vorrei far notare questa cosa vabbè ragazzi vediamo al prossimo video lasciate un mi piace condividete tutte quelle cose lì ballose avete capito insomma se vi è piaciuto fatelo sapere e mi raccomando non mancate domenica live domenica sera ci sarà live alle 5 e se riesco domani domani potrebbe scapparci un piccolo live di pub ma non lo so il sabato è difficile il sabato sto proprio stretto stretto quindi vi faccio sapere bella ragazzi vediamo al prossimo video ciao fatemi sapere mi raccomando il vostro commento è importante consigli disturbi sensazioni ciao